Ciao a tutti fringuelli, andiamo insieme a scoprire che cosa c'è qua dentro è uno dei prodotti che non avrei mai creduto di comprare ma alla fine dopo tanto tempo mi sono deciso di prenderlo perché alla fine per noi ciclisti è un utile compagno di allenamento ovviamente sto parlando del depilatore elettrico Total Body Body Groom serie 7000 di Philips perché parlo di compagno di allenamento? Perché quando si fanno allenamenti ad alta intensità come ho fatto questo inverno vi assicuro che si scende dei rulli con le gambe praticamente a pezzi e avere dei prodotti da spalmare sulle gambe per ritonificarle, per ripristinare le funzioni diciamo circolatorie e per diciamo lenire un po' i dolori dell'allenamento occorre avere le gambe depilate perché spalmare questi prodotti con i peli molto lunghi è molto fastidioso ecco perché ho deciso di comprare lui l'ho trovato in offerta su Amazon a 61 euro la confezione si presenta come chi sceglie i prodotti Philips sempre molto accattivante con questa apertura a scrigno eccola qua dove al suo interno è presente lui si presenta subito abbastanza corposo nelle sue dimensioni lo si può sentire subito adesso andiamo a vedere anche quanto pesa ma la cosa più bella è sicuramente l'impugnatura cioè l'impugnatura ti dà la sensazione di avere fra le mani un prodotto di alta qualità non le classiche cinesate gran parte del peso è data oltre che dalla testina rotante che si trova nella parte superiore e un'altra nella parte inferiore questo serve per ridurre i peli in eccesso quelli molto lunghi questo serve proprio per raderli a pelle a zero ed è veramente una figata pazzesca sul lato del rasoio si trova un inserto in plastica abbastanza duro ma ad alto grip proprio per evitare che lo si possa maneggiare in modo errato e perdere il grip stessa cosa la si trova anche qua cioè come vedete è fatta apposta per essere impugnato in più modi qua troviamo i due pulsanti per l'accensione questo ovviamente accende la testina superiore questo accende la testina inferiore la testina inferiore può essere regolata da 3 a 11 mm per ridurre i peli molto lunghi dopodiché poi si passa a questo oppure potete lasciarli da 3 a 11 mm insomma come preferite questo è il led che indica la durata della batteria questo è lo sportello di ricarica per lo spinotto dedicato non è uno spinotto di tipo usb c usb b o micro usb bodygroom 7000 nella confezione abbiamo il cavetto di ricarica con apposito astuccio un sacco di istruzioni e il pennellino per la sua pulizia grazie a tutti grazie a tutti